Per la quinta giornata di campionato il Campobasso si appresta ad affrontare il secondo match interno consecutivo. Dopo il primo successo stagionale, conquistato domenica scorsa contro la Fermana, vittoria firmata di Gennaro Miani, adesso sarà la volta di ospitare la vispesa a Rodimister Bonvini. I marchigiani che in classifica sono fermi a quota due punti insieme a Giulianova, Iesina, Olimpia Agnonese e Termoli hanno conquistato due pari e due sconfitte e sono reduci da un pareggio ottenuto in casa contro la Iesina in una gara decisa negli ultimi 20 minuti di gioco. Una squadra composta per la maggior parte da giovani che sta cercando la quadratura del cerchio. In casa Campobasso la situazione è favorevole, il clima come sempre è positivo nell'ottica di scendere in campo per migliorare sempre le prestazioni. Sul versante dell'infermeria Vitelli ha smaltito completamente l'infortunio che lo ha infastidito da inizio stagione, mentre Minadeo ha un lieve risentimento muscolare che viene costantemente monitorato dallo staff medico che deciderà se le sue condizioni potranno vederlo sul campo. Per il resto tutti a disposizione di Mr. Farina che potrà quindi scegliere la sua migliore formazione. Una parentesi sul nostro tecnico. In settimana è dovuto assentarsi perché selezionato per prendere parte a Coverciano di un corso master per l'abilitazione ad allenatori professionisti di prima categoria UEFA Pro alla presenza del presidente del settore tecnico Gianni Rivera indetto dal settore tecnico della Federcalcio e organizzato dalla scuola allenatori diretta da Renzo Olivieri al quale tra gli altri ha preso parte anche Alessandro Nesta. Tornando all'imminente incontro con la VIS, Fusaro rientra dalla squalifica rimediata Teramo contro il San Nicolò. L'incontro di scena domenica alle 15 allo Stadio Selvapiana sarà diretto dal signor Rastefano Fusco della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa e Pietro Paolo Greco della sezione di Battipaia. Ricordiamo inoltre che è possibile acquistare biglietti in prevendita nelle giornate di venerdì e sabato presso le agenzie Intralot di via Carducci 4T e via 25 Aprile 25. Domenica i tagliandi per assistere alla gara Campobasso vs Vispesaro saranno disponibili presso il botteghino dello stadio. La squadra e la società fanno appello ai tifosi di venire sempre più numerosi sui gradoni dello stadio per far sì che la forza dei lupi sia, come sempre, patrimonio anche del dodicesimo uomo in campo, il pubblico.